Hai la partita IVA e sei un regime forfettario. Devi sapere che dal primo luglio scatta l'obbligo di fatturazione elettronica. Ma non preoccuparti! Con Aruba hai la soluzione più semplice e conveniente del mercato. Invii, ricevi e conservi le fatture anche da app. E in collaborazione con il tuo commercialista. Provala ad un euro per tre mesi e poi a soli 25 euro l'anno. Chi la scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it